Ben trovati sul canale Il Vino Alcalice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Sono Gigi, sono Sommelier e in questo video torniamo a parlare della degustazione del vino per fare bella figura ma senza esagerare. Abbiamo parlato in modo approfondito della tecnica di degustazione del vino in una serie di video di questo canale. Nello specifico per parlarne io mi sono rifatto alle terminologie usate dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier. La playlist la potete trovare qui e alla fine di questo video. La tecnica di degustazione si rifà ad una scheda che segue delle logiche ben precise. Prima però di addentrarci nel tema della degustazione del vino, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale Il Vino Alcalice attraverso il pulsante iscriviti. Per voi è un secondo a costo zero, per me un incentivo a continuare in questo progetto. Dunque dicevamo che dietro ai termini utilizzati per descrivere un vino in fase di degustazione ci sono delle logiche precise. Tali logiche mirano ad enfatizzare il più possibile le caratteristiche del vino che si ha all'interno del calice e a seguire dei passaggi che servono per ottimizzare la percezione. Anche semplicemente il partire dal visivo per passare poi all'esame olfattivo ed infine arrivare al retronasale e gustativo ha delle precise motivazioni. La degustazione è una tecnica che va studiata, affinata, sperimentata ed allenata. La comprensione di un vino non è semplice e degustare e bere sono due cose assolutamente differenti. Spesso si sentono delle lamentele sui tecnicismi e su una certa difficoltà nel comprendere le descrizioni. Al di là delle lecite osservazioni, come per tutte le cose, bisogna anche avere la consapevolezza che la semplificazione estrema, spesso, rischia di impoverire la materia che si va a descrivere. Questo vale per tutto e tanto più vale per certi vini che nel calice portano tutte le caratteristiche proprie del terroir da cui provengono. Di terroir abbiamo già parlato in un video di questo canale e alcuni aspetti li stiamo approfondendo con ulteriori video. In ogni caso i tempi cambiano, il linguaggio si modifica e muta anche la platea delle persone che sono interessate a comprendere il vino. Vino che è importante spiegare e raccontare anche a chi non è un tecnico del settore ma che è consumatore attento e attore delle scelte fondate su come il vino viene spiegato e fatto comprendere. Nel 2021 una ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università di Verona organizzata dal Consorzio dei Vini della Valpolicella e presentata alla conferenza annuale della Valpolicella parlava del linguaggio del vino e della sua comprensione. Una delle strade proposte per ampliare la comprensione è stata quella di affiancare al linguaggio più tecnico anche delle modalità di esporre i contenuti e di spiegarli in grado di adattarsi alle conoscenze di chi si ha davanti. Il tutto cercando di tenere bene a mente come faro il fatto che modificare il proprio linguaggio non vuol dire abbassare il livello dell'argomento che si va a spiegare ma anzi vuol dire dare alla conoscenza una diversa accessibilità possibilmente un'accessibilità maggiore. Un altro aspetto emerso in occasione della conferenza citata è che il 40% delle parole che usano i degustatori professionisti ma anche i produttori riguardano l'olfatto. Un altro 40% dei termini vanno a descrivere il gusto e il 16% la vista. Solo il 4% racconta il territorio, l'azienda, la storia dei produttori stessi e le correlazioni culturali al vino che si va a descrivere. Quindi anche uno spazio maggiore a questi aspetti sarebbe interessante quando si parla di degustazione. Si fa quindi concreta la richiesta di alcuni cambiamenti e alcuni di questi cambiamenti li abbiamo appena citati. Tutta questa premessa per dire che qualcosa si sta muovendo nell'adattare il linguaggio del vino nel migliorarlo. Io come dicevo tengo come riferimento i testi e le schede dell'AIS. Ho sempre avuto come riferimento questo testo, testo che ho tanto sudato, letto e studiato sulla degustazione. In questi mesi questo testo sta lasciando il posto ad un testo nuovo. Testo che mi è arrivato pochissimi giorni fa e che ho aspettato di aprire proprio in questo video in una sorta di unboxing. Qualcosa di questo testo ho già potuto iniziare a scoprire, ad approfondire. Spoiler ho per esempio che si parla di piacevolezza del vino. Il colore viene descritto da qualche ulteriore punto di vista e con qualche termine nuovo. L'armonia acquisisce dei nuovi significati. Ecco, questo è il testo. Oltre a nuovi significati da alcuni punti di vista c'è anche una procedura di degustazione e una gestualità che va a modificarsi. In particolare la gestualità della naggi olfattiva che è stata aggiornata. E se posso dire, dal mio punto di vista, la questione porta a un netto miglioramento. Ma questi appunto sono solo degli spoiler. La mia idea è quella di studiarmi questo testo. E se vi piacerà ci ritroveremo per uno o più video che ci permetteranno di integrare e modificare gli aspetti della degustazione dei quali ho già detto nella playlist come degustare il vino. Abbiamo una scheda molto più colorata. Ma, ripeto, in qualcuno dei prossimi video andremo a riprendere in mano il tutto. Nel frattempo, come sempre, se il video vi è interessati lasciate un like e se ancora non l'avete fatto premete sulla campanella in modo da restare aggiornati rispetto all'uscita dei prossimi video. Alla salute!